Studio Vale, probabilmente l'ufficio più conosciuto del mondo, che recentemente è stato anche da Obama stesso riadattato con il suo gusto. Vediamo le immagini. Lo Studio Vale è stato addobbato con le fotografie, che tra poco vedremo, della famiglia Obama, la moglie Michelle e le due figlie, Sasha e Malia. E poi diversi cimeli, vari risalenti all'epoca dei nativi d'America, alcuni modellini di invenzioni come quella del telegrafo e anche un manifesto originale che contiene estratti del discorso del leader afroamericano Martin Luther King.